seconda parte del video con occhiale scaramantico 2.0 per avvicinarci ancora di più all'inizio del campionato abbiamo finito l'altro video perché stava per esplodere il nostro, diciamo, la nostra telecamera per la temperatura altissima andata in escandescenze probabilmente perché parlavamo di cialtroni e dove fosse finito il pdf, no? Quindi il mago dei biscotti, altro che ci viene dato dopo quello dell'esse lunga come nuovo esperto di altissima finanza internazionale dovrebbe spiegarci dove è finito il pdf, quel documento tanto importante, tanto anche costoso che non era stato venduto a una importante testata che doveva pubblicare questo mega scoop incredibile mondiale dovrebbero spiegarci i nostri eroi dove sia finito questo fantomatico pdf un bel te caldo che vi offriamo magari così per svegliare tutti gli allocconi abbiocconi che si fanno ancora tirare in mezzo dalle favole dei cialtroni noi comunque andiamo avanti naturalmente sulla nostra strada nonostante gli smartellatori siano sempre pronti a criticare e a cercare di destabilizzare l'ambiente se fosse confermato, stiamo aspettando un'ulteriore verifica e speriamo che arrivi durante la registrazione di questa seconda parte del video se Skriniar effettivamente fosse tolto dal mercato sarebbe qualcosa di importantissimo se arrivasse la conferma di questa notizia che abbiamo dato fin da subito ma su cui manteniamo sempre prudenza perché conosciamo molto bene gli smartellatori e quello che può succedere in un mercato che non è mai stato così fluido come in questa estate caldissima dicevamo di mercato abbiamo trattato in modo direi esaustivo con tutte le possibili trattative nell'altro video aggiungiamo che c'è sempre quel nome misterioso nel nostro cassetto su cui stiamo lavorando da tempo e vedremo se ci sarà anche qui un mega scoop confermato ma vi diremo di più solo quando ci saranno le dovute conferme vi ricordiamo sempre di iscrivervi al nostro gruppo Telegram aperto a tutti Marco Barzaghi Inter in cui avete notizie, notifiche tutto quello che facciamo, anticipazioni degli articoli che escono sul nostro sito che sta volando che sta facendo segnare i numeri mai visti e consentitemi di fare un dei complimenti doverosi a tutta la nostra redazione a tutti quelli che veramente stanno dando tutto il loro impegno per far rendere realtà un bellissimo sogno come il nostro sito cliccatelo, mettetelo tra i preferiti www.marcobarzaghi.com vi suggerisco un tema interessante da approfondire come uno dei nostri ultimi articoli l'ombra di piffa anche sul Chelsea se lo stanno chiedendo in Inghilterra stanno cercando di fare le dovute analisi da Premier League e il governo inglese fatevi una lettura che non è mai male dopo di tutto questo direi che andiamo a leggere i vostri messaggi nessuna corsia preferenziale se non nel finale per gli abbonati che ringraziamo per come sostengono il canale ma noi vi leggiamo i messaggi che ci arrivano così come ci offre il tubo e la, diciamo, la gerarchia mettiamo i commenti più popolari e li andiamo a leggere poi leggiamo qualche abbonato naturalmente che un minimo di considerazione ce l'ha oltre sport ci deve essere un giornalista della Gazzetta con il trapano e sono abbastanza d'accordo che vuol coprire la frase la Juve ha preso quattro pere dall'atletico ci può essere si becca ben 52 like Black Rose se resta a Skriniar e arriva a Kanji il bilancio si può dire positivo per i nostri giovani preferirei destinazione Sassuolo che è una buona piazza avrebbero più chance di fare esperienza e crescere assediato dagli smartellatori un uomo e il suo destino qualcuno mi ha detto ma perché non te ne vai in un parco ma perché non... forse non capite non è che abbiamo solo un telefono abbiamo una serie comunque di periferiche che hanno anche bisogno di corrente non è che possiamo metterci e facendo anche video lunghi dove vogliamo servono una serie di situazioni preparate a Carnevale ogni scherzo vale Sassuolo alla fine riesce quasi sempre a piazzare i suoi giocatori a cifre mi avviso eccessive e tirare sole clamorose sulla blindatura di Skriniar non metto la mano sul fuoco un pensierino su Depay lo faccio volentieri anche se sembra sempre più vicino a una Juve che si è portata a casa anche Kostic speriamo si tenga duro su Skriniar e Dunfries scrive Giacomo Gattoni perdere uno dei due ora vorrebbe dire tirarsi fuori dalla lotta a Scudetto non sono convinto di questo però speriamo che si tenga duro a Kanji 27 anni tanta esperienza internazionale personalità e costo di circa 10-12 milioni a Cerbi 34 anni esperienza internazionale poca nessun upgrade rispetto a Ranocchia e costo di circa 4 milioni se poi consideriamo i rapporti con Lotito sale a 6 a voi la scelta direi che se la metti così non c'è assolutamente partita vediamo se si riesce a prendere a 10 a Kanji è un mistero il fatto che Raspadori valga 35 milioni mentre si fa fatica a tirar su 20 milioni per Pinamonti che è arrivato in doppia cifra e che però dovrebbe essere ormai del Sassuolo a un passo ancora complimenti per la tua analisi Piero Naselli Dzeko ha sempre dato tutto un campione si riprenderà Andanovic inizio campionato sempre fuori fase Onana sarà titolare dopo i mondiali lavorare sulla distanza dei reparti è il primo problema e siamo d'accordo con la tua analisi sembra che spesso lo dico per quanto riguarda l'Inter quando fanno scegliere agli allenatori i propri beniamini allenati nelle ex squadre succede che questi o per motivi tecnici o di contratti troppo lunghi rispetto all'età comportino sempre dei problemi mi spiace ma bisognerebbe dire di no e scegliere qualcuno che non è un ex perché pare poi deludano e su questo l'esperienza insegna e ti dà ragione caro Marco Ivan ha vantaggiato Bremer fino adesso non è che mi abbia entusiasmato più di tanto chissà sarà un nuovo Delecht beh lo speriamo buongiorno punterei su Akanji Maurizio 2899 per rinforzare la difesa visto che qualche gol di troppo lo abbiamo preso anche se può dipendere molto anche dal lavoro dei centrocampisti che con le gambe pesanti magari non croprano abbastanza comunque sarebbe un buon upgrade anche Gino penso che Akanji sia una buona cosa parliamo di un giocatore che può essere qualcosa in più rispetto a Ranocchia Mr. 7 Lanetti che è un po' che non ci scriveva credo che già da inizio stagione ci debba essere chiarezza importa deve giocare Onana titolare sappiamo che l'alternanza alla lunga può essere deleteria e questo è un argomento abbastanza spinoso Luca Clerici che ringraziamo come sempre qui presente con i suoi messaggi molto interessanti Zang secondo me si è convinto a rinviare ogni discorso sui più 60 a giugno 2023 incassiamo i soldi per Pinamonti prendiamo un centrale di difesa e poi ci sono ancora ad accedere a Gumel Salsedo a Kanji sarebbe ottimo in cambio di De Vrij o penso di tutti e tre i centraloni Wally grazie Marco mi tieni sempre informato sei l'unico che dà notizie vere grazie a te Wally di essere sempre al nostro fianco Giordano buongiorno io sono Umbro specificando bene Ternano i pescaresi li conosco bene no comment se non entriamo in queste rivalità tra città e regioni hai detto che i dirigenti in Zaga hanno chiesto di fare il sacrificio dalla cessione l'anno prossimo nel 2023 accederemo un big che futuro ci aspetta ma nessuno ha la sfera di cristallo possono succedere tantissime cose sicuramente non ci auguriamo una guerra a Taiwan per sperare che poi cambi la proprietà dell'Inter questo solo veramente le capre lo possono sperare sperare in una guerra per l'Inter che cambi proprietà qualcosa di abominevole che solo qualche cialtrone può dire ma se dovesse uscire Dumfries perché non pensare di nuovo a Nandez è un nome che sta tornando anche il Napoli ci sta pensando seriamente per rinforzare la sua squadra mi sembra che abbia un po' perso il treno per il calcio che conta però stiamo stiamo a vedere secondo abbiamo una rosa valida Francesco Morsucci speriamo che il gioco di Inzaghi si adatti alle caratteristiche di Lukaku comunque una società se era non può una settimana inizio del campionato sapere se ancora verranno ceduti due giocatori importanti aspettiamo conferme sul fatto che Skriniar sia stato tolto dal mercato secondo me Skriniar a fine mercato andrà via Giuseppe Fichera e Dumfries rimarrà ci sono indizi che portano a questa cessione il primo è il non rinnovo di contratto allo Slovaco che è già stato però apparecchiato si è già pronti a un accordo per un contratto da sei più bonus come tutti i top della squadra buongiorno Marco sei il canale più pulito grazie Francesco Nigro messaggio essenziale ma molto mi dà molto orgoglio e l'abbiamo dimostrato combattendo i vari cialtroni dal water al mister 19 novembre 20 dicembre 10 giugno 30 luglio 30 luglio adesso abbiamo il 10 agosto e oggi non doveva succedere qualcosa anche oggi vabbè andiamo avanti grazie per tutto quello che fai per noi Alessandro Menghini ti chiedo una cosa per caso sai dove alleggerà l'Inter il venerdì in quel di Lecce purtroppo non lo so dovessi saperlo ve lo dico con Akanja al posto di Ranocchia nessun'altra uscita siamo in pole per lo scudetto ma fino al primo di settembre sto in ansia forza Inter mi sembra di capire che all'interno dello spogliatore dell'Inter ci sia una certa pressione tensione sulla vicenda Scrinia non credo però sono stati tutti molto chiari hanno detto che tutti sperano in una sua permanenza come credo tutti noi come la curva Scrinia non si tocca patti chiari amicizia lunga il testo dello striscione che era stato apposto in via della liberazione insomma vedremo che cosa accadrà e poi faremo anche noi le nostre valutazioni abbiamo sempre detto valuteremo a fine mercato la squadra che avrà a disposizione e daremo un giudizio su un mercato che finora è ottimo da otto secondo me perché ricordatevi tutti che Bremers sarebbe arrivato solo al posto di Scrinia e secondo me Scrinia è più forte di Bremers quindi meglio tenere Scrinia e non aver preso Bremers non sarebbe mai stato possibile in questa situazione prendere Bremers e tenere Scrinia senza un altro sacrificio pesantissimo Oriana aspetto l'inizio del campionato vedremo la risposta che ci darà la squadra in campo per il resto aspetterò solo le tue notizie con la speranza siano sempre positive lascia ad altri commenti opinioni soprattutto critiche solo per destabilizzare tutto l'ambiente bravissima Oriana blindare assolutamente Scrinia bene un eventuale arrivo di Akanji Attilio Genoni Mad Mike la situazione delle piccole squadre paradossale non possono competere con il mercato le big ma vendono i giocatori a 40 milioni e poi li comprano a metà prezzo complimenti per la trasmissione Forza Inter speriamo che facciamo un campionato buono se ce lo dice Massimo Speranza un nome una garanzia calma 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 Moreno Giusti che finché non finisce il calciomercato bisogna sperare che non venga ceduto nessuno di importante vediamo chiederei comunque a tutti educazione in chat e non scrivere cose che poi devo rimuovere Calogero credo che i nostri giocatori valgono di più ma siccome viviamo in un mercato pazzo speriamo bene e siamo d'accordo Matteo Peirone manca sempre meno all'esordio in campionato speriamo non venga sacrificato nessun big Andrea Battista finalmente la lunga telenovela è terminata non se ne poteva più è il campion se ne è andato in cerca di altri lì di buona fortuna a lui è un sospiro di sollievo per noi meno 4 ormai ci siamo è questione di ore sabato sera alle 20.45 tutti davanti allo schermo o tanti in via del mare perché saranno più di 10.000 i tifosi in vacanza o del Salento o vicino a Lecce che andranno a sostenere la squadra anche al via del mare che è già tutto esaurito tra l'altro oggi vengono messi in vendita i biglietti del derby quindi se volete esserci fate un tentativo Claudio Bizzarri sviluppi di mercato e dopo derby a quel punto al dopo derby a quel punto si potrà fare un'analisi realistica e sono d'accordo fino a quel momento testa bassa e pedalare Maria oggi più che mai ciao ciao Sanchez grazie di tutto nel bene e nel male grazie Marco sempre e un altro teccaldo in arrivo qui al tavolo magari ce lo porta il pizzaiolo di Provenza con le sue notizie lette sui giornali della settimana prima questo con il trapano e Sanchez che dice ehi amico i campioni sono così costruiscono anche i palazzi vediamo se si ripresenta tale Castelli dico solo che se il PSG fa un'offerta a 20 giorni alla fine vuol dire che ci considerano una squadretta come si permette sta gente noi siamo il doppio di loro siamo nella storia del calcio hai ragione Ale sempre tutti uniti è la nostra forza avanti Inter un saluto a te agli amici che ti seguono in modo onesto io sono d'accordo con te di rigettare in toto i complottisti e i disonesti intellettualmente vorrei ricordare agli interisti tristi prima che la famiglia Zanga acquistasse l'Inter si sono dimenticati in quale condizione versava l'Inter spero che rimangano all'Inter a lungo ciò significa che l'Inter è in mani sicure lo vedremo Ginter è andato all'Ofenheim è tornato a casa anzi no al Friburgo al Friburgo la squadra è la sua città il problema è che i nostri giocatori non hanno i prezzi giusti perché si sa sempre tutto di noi che siamo in difficoltà finanziarie questo vedremo nuova new entry il trapano più famoso di Youtube buongiorno Marco ti auguro buona giornata grazie Marco Righi vediamo se c'è qualche altro abbonato solo adesso dopo dieci minuti di lettura dei vostri messaggi in ordine come ce li suggerisce il tubo facciamo un minimo saluto Alex Lee DJ che apprezza apprezza a differenza di qualche altro il sottofondo di smartellatori Alex Nerazzurro salutiamo i tanti amici rimandiamo un abbraccio a Luigi di Inter for Passion che si rimetta al più presto dopo il brutto incidente che ha avuto assolutamente auguri di pronta guarigione ancora Frank Nerazzurro è riuscito anche a scriverci Luigi e ci fa molto piacere e poi vedremo ragazzi insomma quello che che succede ringraziamo per il super grazie Luca Clerici assolutamente e andiamo a leggere i giornali sempre in attesa di qualche notizia di conferme sulla questione più importante che riguarda Skriniar andiamo ad aprire la gazzetta dello sport che regala la sua copertina alla Juventus Juventus che ha chiuso per Kostic in arrivo a Torino anzi sarà già arrivato quando starete vedendo questo video signora coppia Juve sbarca Kostic Depay a un passo Allegri scopre le nuove carte il serbo già in campo con Sassuolo l'olandese si libera dal Barca se esce Rabiot può entrare anche Paredes e poi dubbio Inter regia per la prima Brozovic ci prova Inzaghi pronto comunque a lanciare Aslani andiamo all'interno Mancini che dice quello che vi ho detto in apertura nell'altro video Lukaku in Italia fa la differenza con lui l'Inter è più forte anche se non ha più Perisic e ci fidiamo assolutamente del Mancio uno un intenditore di calcio come pochi Depay in arrivo e se parte Rabiot la Juve scatta su Paredes continua una campagna faraonica di rinforzi anche se poi tanti sono in infermeria Turbo Brozovic ci prova per Lecce ma con Aslani inzaghi a un jolly interregisti allo specchio il croato prova a recuperare dal guaio al polpaccio alle sue spalle scalpita il baby albanese che è già più di un semplice vice Brozo il croato un riferimento totale Cristian studia da Marcello ma va oltre con lui più spinta è una squadra più offensiva Mandorlini Skriniar è super non si rimpiazza prenderei Acerbi dietro ai titolari il difensore lo squeletto dei record a giugno si poteva accedere ora è tardi poi Lukaku le sue parole mi interessa solo lo squeletto e oggi aspettiamo l'intervista integrale leggiamo le news di mercato che ci pone la gazzetta che ci dà si avvicina a grandi passi l'atteso momento dell'incasso dopo i primi investimenti all'inizio del mercato dai big Lukaku Mkhitaryan ai baby Bellanova Aslani passando per le delusioni di luglio i sogni di Bale e Bremers fumati su più bello adesso ad agosto i nerazzurri sono a un passo da vendere per davvero la telenovela Pina Monti vicino alla conclusione con l'accessione definitiva al Sassuolo il club che è passato in vantaggio negli ultimi giorni ieri un ulteriore incontro con lo staff del giocatore poi una cena inter-Sassuolo in un noto ristorante del centro portata principale proprio Pina per cui i nero-verdi stanno per avvicinarsi ai 20 milioni da sempre richiesti dell'Inter per lui un quadriennale più opzione per un altro aggiuntivo uno stipendio da due l'anno semmai gli ultimi dettagli devono essere sciolti sull'eventuale recompra richiesta a lungo dall'Inter che alla fine dovrebbe non esserci per questo si discute su una clausola recissoria come vi abbiamo raccontato nell'altro video nella prima parte che andate a rivederla se non l'avete ancora vista su Casadei nessun movimento londinese il Chelsea stravede ma non si è avvicinato ai 15 milioni di richiesti nell'attesa di una mossa parigina su Skriniar comunque l'Inter continua a osservare lo svizzero a Kanji si profila un braccio di ferro col Dortmund che lo ha messo fuori squadra su finale di mercato il prezzo potrebbe dimezzarsi adesso di 20 milioni perché il giocatore vuole nerazzurro intanto Sanchez fresco di buona uscita da 10 lordi si è già accasato al Marsiglia è stato accolto come un sovrano tra cori e fumogini e per salutare i tifosi ha rischiato pure uno scivolone che sarebbe diventato virale questo sulla gazzetta andiamo al Corriere dello Sport belli decisi prima pagina il no di Zaniolo convinto da Mourinho al Tottenham di Conte giovedì c'era un accordo totale ma José ha parlato col giocatore e lo ha deciso a rifiutare la Juve prende Costi cede Pai Napoli Simeone con Raspadori le grandi si completano ecco Costi cede Pai last minute si rinforza mentre Rabiot ha i saluti e può arrivare anche Paredes le scuse di Berardi che rinnova con Sassuolo dopo quella brutta reazione e quel battibecco con i tifosi Napoli su Simeone Raspadori per rinforzare l'attacco che ha perso Insigne Mertens insomma non proprio allo stesso livello Zaniolo al Tottenham ma Mourinho dice stop e convince il talento cresciuto nella primavera dell'Inter Lukaku senza limiti dritti allo scudetto la foto di Big Rom che campeggia sul Corriere dello Sport l'inserimento nei schemi di Inzaghi non è ancora ottimale nell'ultima gara però ha lasciato il segno a parole di miele per Lautaro per Barella e Brozovic il prossimo step è segnare a Leccia a cui segnò il primo gol in Serie A si era a San Siro ma si cerca il gigante belga sta vivendo con applicazione ed entusiasmo il ritorno all'Inter che l'ha voluto fortemente in un'intervista chiarisce che l'obiettivo ce l'ha ben chiaro a tutti è quello dello scudetto e poi un interessante focus sulla rosa dell'Inter una rosa intercambiabile in ogni posizione ci sono un paio di alternative e sarà intercambiabile Inzaghi ha già un piano almeno due per ruolo tanti jolly come Di Marco Aslani e Mkhitaryan e cinque sostituzioni da sfruttare Lukaku Martínez i titolari le coppie però si possono anche mischiare all'occorrenza e mentre vi ricordiamo il nostro sito marcobarzaghi.com il nostro gruppo telegram Marco Barzaghi Inter iscrivetevi tutti gratuitamente poi c'è un gruppo privato per gli abbonati che se non hanno ancora ricevuto il link di iscrizione scrivetemi in privato su Instagram e ve lo mando chiudiamo velocemente con Tutto Sport la nostra rassegna stampa quotidiana appuntamento stasera ore 23 in live su l'altro canale tutto Sport Vlasic preso nel Torino e ora Mirancuk Kostic volano assist per la Juve Simeone al Napoli caos al Verona ma andiamo alla pagina dedicata all'Inter vediamo come la dipinge Tutto Sport prima di salutarci se arriva anche fa un po' fatica a caricare vediamo Zang l'ora delle scelte screener via subito o a mai più e direi che con questo ci salutiamo appuntamento stasera in live alle ore 23